Messaggi della Regina della Pace a Meggiugorie Messaggio a Maria 25 ottobre 2019 Cari figli, oggi vi invito alla preghiera. La preghiera sia il balsamo per la vostra anima, perché il frutto della preghiera è la gioia, il dare, il testimoniare Dio agli altri attraverso le vostre vite. Figliuoli, se vi abbandonate completamente a Dio, Lui si occuperà di tutto, vi benedirà e i vostri sacrifici avranno senso. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.